buongiorno e benvenuti alla resegna stampa di oggi martedì 22 settembre 2020 sul canale 17 di fan tv c'è l'informazione ancora di prima mattina subito i giornali che vedremo tra un istante andiamo a vedere il santo e il tempo che oggi cambia come vedremo tra poco oggi è san maurizio e compagni martiri l'alba alle 6.58 e il tramonto alle 19.09 avremo oggi un cambiamento del tempo questa mattina vedete questa è la proiezione del sito della protezione civile delle marche che per la giornata di oggi ma in particolare nel pomeriggio prevede temporali rovesci sparsi appunto nel pomeriggio nel settore centro meridionale della regione temperature senza variazione di rilievo per domani mercoledì 23 ancora possibilità di brevi deboli ed isolati piovaschi più probabili nelle zone dell'entroterra mentre per la giornata di giovedì sarà il cielo parzialmente nuvoloso con un transito di nuvole nella zona collinare e anche ma poca copertura lungo la fascia costiera per quanto riguarda il maltempo potrebbe ritornare un po di perturbazione nella giornata di venerdì pomeriggio queste sono le previsioni per quanto riguarda il tempo e allora cominciamo la nostra la segna stampa che come potete ben immaginare cari telespettatori di fano tv oggi sarà per lo più incentrata sul risultato da tutti definito storico alle elezioni regionali che si sono concluse ieri alle 15 con la chiusura dei seggi il risultato storico come abbiamo avuto modo ampiamente di raccontarci ieri nella lunga maratona televisiva riguarda la vittoria del centro-destra che dunque conquistano le marche e di questo si parla con tanto di fotografia dati e numeri sui giornali di oggi cominciamo dal resto del carino questa è la pagina con la foto notizia di un abbraccio strettissimo tra il candidato ormai governatore francesco acquaroli e giorgia meloni che a un certo punto alle 20 si è fiondata nella sede nel quartier generale di acquaroli appunto cambiamo la regione questo il titolo l'abbraccio fra giorgia meloni e il nuovo governatore le prime promesse il titolo sull'edizione di pesaro svolta storica le marche a destra acquaroli conquista la regione e sfonda pure in provincia mangialardi regge solo a dancona il centro-sinistra KO anche in provincia di pesaro urbino ma a pesaro tiene poi nel giornale potrete trovare i risultati in tutti i comuni gli eletti del centro-destra carloni serfilippi e baldelli sicuri a guzzi quasi manca il quinto biancani boom vitri vola minardi no ricci decisiva la mancata alleanza con i 5 stelle chi ha gestito il covid dice ceriscioli è stato comunque confermato il corriere adriatico freccia a destra sorpasso e sorpasso il governatore è acquaroli ribaltone nelle marche dopo 25 anni fratelli d'italia triplica i voti pd primo partito i numeri delle elezioni acquaroli centrodestra sono non ancora tutti i seggi vedete 1425 quando il corriere è andato in stampa su 1576 ma cambia davvero di pochissimo dicevamo 49,22 per cento per acquaroli 37 14 per mangialardi 8,65 per il candidato dei 5 stelle mercorelli andiamo sulle pagine interne questo è il corriere il centrodestra conquista le marche stravincia acquaroli è il governatore è la prima volta in 25 anni per il candidato dei fratelli d'italia quasi il 50 per cento la lega al 22 il pd resta primo partito ma ora inizia la resa dei conti guardate l'affluenza lo evidenziata con il giallo regionale 2020 l'affluenza alle urne 59 75 nel 2015 cinque anni fa era il 10 per 10 punti percentuali sotto 49,78 per cento rientrare a palazzo raffaello dalla porta principale ribaltando 25 anni di storia delle marche dopo aver lasciato palazzo delle ferrovie sede dei gruppi del consiglio regionale il primo luglio 2014 per andare in silenzio a fare il sindaco a casa sua potenza piccena per tutto il resto ci sarà anche una carta di credito parafrasando la la pubblicità ormai nota ma il 21 settembre del 2020 da oggi e per sempre non avrà prezzo per francesco acquaroli nuovo governatore delle marche per lui e per il centrodestra che per la prima volta sale il comando della regione marche è una pagina per quanto annunciata scioccante ed incredibile conquistata la roccaforte la destra espugna le marche il titolo del resto del carlino acquaroli vince ovunque anche nel pesarese svolta storica nelle marche centrosinistra battuto la meloni dice abbiamo parlato dei problemi concreti di questa regione ora faremo i fatti abbiamo detto francesco acquaroli da potenza piccena 45 anni ex sindaco della sua città ex consigliere regionale deputato il prediletto di giorgia meloni da oggi deve dare sostanza e concretezza la voglia di cambiamento che i marchigiani hanno espresso oltre ogni ragionevole dubbio mandando a casa il pd centrosinistra e più in generale un sistema di potere che ha governato ininterrottamente la regione dunque è una volta storica è una svolta storica non è vero come dice il sindaco matteoricci che un'alleanza con i grillini avrebbe ribaltato il verdetto perché il risultato di un'alleanza non è dato dalla somma degli addendi cioè dei voti di ciascuno delle componenti mai se contano poco conta che le marche hanno scelto la destra non il centrodestra e questo rende ancora più storico il cambiamento e poi il resto insomma per quanto riguarda i voti neanche pesero è riuscita a fare la differenza per l'ex sindaco di senigallia che qui in città ha ottenuto circa il 45 per cento rispetto al 41 del neo governatore insomma un brodino il resto della provincia a partire da fano ha virato decisamente a destra incoronando l'uomo della meloni acquaroli vince ribaltare tutto ricostruzione sanità e lavoro sempre dal carlino le priorità del nuovo governatore daremo le risposte che questo popolo attende da anni e qui c'è il tweet di giorgia meloni trionfo marche grazie a francesco acquaroli a fratelli d'italia un'altra roccaforte della sinistra sarà amministrata dal centrodestra dal nord a sud fratelli d'italia è l'unico partito che cresce in tutte le regioni al voto ma c'è una considerazione che pubblica andrea brusa sul resto del carlino dalle macerie la rivoluzione di settembre ecco un'analisi della situazione delle marche una crisi industriale che tra sta trascinando le marche sempre più verso scenari economici da meridioni d'italia una ricostruzione post terremoto mai cominciata davvero con le macerie che ancora sanguinano rabbia un tessuto sociale che in più campi aveva lanciato grida d'aiuto e di insoddisfazione un sistema sanitario che alle richieste della gente preferiva gli algoritmi matematici riferendosi all'ospedale ma anche una capacità sempre più misera e anche snob di comunicare con i marchigiani ecco le radici della rivoluzione di settembre nelle marche dopo 50 anni il centrodestra va al potere per la prima volta facendo cadere una delle roccaforti rosse più solide d'italia scoprendosi unito e sapendo scogliere il malcontento dei cittadini riempiendo piazze come mai si era visto prima dunque un campanello d'allarme c'è stato sì c'è stato per il centro-sinistra che invece nelle segrete stanze sperava e scherzava piazze piene urne vuote non è non questa volta perché la voglia di cambiamento all'insegna di un'alternanza che a volte in politica può anche portare stimoli e novità era palpabile adesso cosa succederà il partito PD che guidava la coalizione di centro-sinistra dovrà fare un bel esame di coscienza su tutto ciò che avrebbe potuto fare e che invece non ha fatto in questi in questi anni attento però a non bruciare quel Maurizio Mangialardi che nei mesi di campagna elettorale si è dimostrato leader carismatico a cui è mancato solo il miracolo in zona cesarini c'era voglia di cambiare scrive ancora il Corriere Adriatico basta giovani che fuggono all'estero Acquaroli dice dialogheremo con l'opposizione per quanto riguarda la giunta confermo daremo spazio ai territori e sul fronte sanitario dice lavoreremo subito per riscrivere appunto il piano adesso sulla pagina ancora del Corriere Adriatico Democrat primato con disfatta Gostoli segretario regionale dice i conti li faremo dopo i sindaci la Mancinelli sindaco di Ancona lontani dalla gente quando lo scorso giugno il gruppo ratificò la candidatura di Maurizio Mangialardi l'ormai ex assessore Angelo Sciapichetti lo disse senza mezzi termini se perdiamo qualcuno dovrà assumersi la responsabilità della sconfitta ma ne parleremo ne riparleremo il giorno dopo il voto Matteo Ricci dice dell'Eteria la corsa solitaria senza quindi anzi la corsa solitaria dei 5 stelle Cesetti voleva confermare Ceriscioli purtroppo l'esito del voto mi ha dato ragione ho remato contro dice Mangialardi ieri lo ha detto subito alle 19.30 quando si è presentato davanti ai giornalisti ho remato contro vento e 5 stelle dei narcisisti Mangialardi e le ragioni della resa terremoto banche e sanità difficile spiegare il cambio di passo i marchigiani hanno voluto il cambiamento e ora noi vigileremo aspetto Acquaroli all'opera ho visto solo Salvini e la Meloni solo Italia Viva supera il 3% poi quasi il nulla e allora Mangialardi che recupera ma non basta hanno pesato sanità e terremoto scrive il Carlino per il candidato del centro-sinistra sono gli errori della passata legislatura ad aver scavato il fossato con Acquaroli anche il mancato accordo con i grillini ha influito colpa del loro narcisismo Mercorelli invece l'altro candidato dei 5 stelle pentimenti nessuno il PD era già morto dice taglio dei parlamentari perché si è votato anche per il referendum non dimentichiamocelo Pesero grida sì in provincia percentuale più alta delle Marche affluenza in aumento di 10 punti vota il 59,7% in città si sfiora addirittura il 63% Mangialardi perde anche qui il PD verso la resa dei conti il pesarese ha infranto le speranze del centro-sinistra di reggere l'urto Ceriscioli chi ha affrontato l'emergenza Covid però è stato premiato è stato confermato anzi la provincia dunque di Pesero Rubino ha infranto le speranze di Mangialardi e contribuito al successo di Francesco Acquaroli il candidato ha ottenuto 9 punti percentuali in più del suo competitor di centro-sinistra il partito regge in città Biancani boom Mangialardi qui si impone Ridolfi non frena il consigliere regionale uscente e confermato. Andiamo a vedere l'altra pagina la pagina 6 del resto del Carlino Ceriscioli e i veleni nel Partito Democratico nel PD divisi non si vince tutti i governatori che hanno affrontato la pandemia sono stati confermati il sindaco di Pesero accuse Grillini con l'alleanza ce l'avremmo fatta in effetti adesso al di là di Zaia insomma ci sono anche altri governatori che comunque hanno dato prova di aver gestito bene l'emergenza della pandemia e sono stati riconfermati. È un'analisi anche questa che ha il suo perché e dunque poteva essere infatti così anche per le Marche se avesse riconfermato probabilmente Ceriscioli. Il segretario regionale e qui si parla di guerra interna dice ora serve riflettere le mie dimissioni ci siamo ricompattati, non è bastato. Mangialardi duro con il partito, pagati tutti gli errori, l'ex sindaco di Senigallia penalizzati anche dal narcisismo dei 5 Stelle, Acquaroli complimenti ma ora voglio vederlo all'opera. Adesso arriviamo alla pagina invece di come sarà il consiglio di come potrebbe essere il consiglio. Intanto vi ricordo che questa mattina c'è una conferenza stampa del neogovernatore in regione, Acquaroli dirà probabilmente visto che i dati saranno quelli definitivi, si stapparanno anche sulle liste come è andata per quanto riguarda i candidati e quindi c'è la questione adesso della composizione del governo che governerà insieme a lui gli assessori della sua giunta. Intanto il consiglio regionale che sarà rivoluzionato, otto seggi vanno al carroccio, sette a Fratelli d'Italia. Forza Italia conquista due poltrone, il calcolo dei resti potrebbe regalare però alcune sorprese. Un consigliere forse a Civitas, otto scranni per il Partito Democratico, mentre il Movimento 5 Stelle vede ridursi la sua presenza a soli due consiglieri. Allora questo è, vedete il panettone come si dice, Ancona 9, Pesaro 7, Macerata 6, Fermo 4 e Ascoli 4. La fine dello spoglio viene stilata una graduatoria per il consiglio con 36 candidati più il governatore. In funzione dei consiglieri promossi in giunta dal nuovo governatore sono ammessi in consiglio il 31esimo e il 32esimo e così via. Andiamo sul resto del Carlino. Allora Carloni, Baldelli e Serfilippi sono posti sicuri in consiglio regionale. Aguzzi quasi, nel PD Biancani fa il pieno, Vitri vola, Minardi arranca. Allora sono sette i seggi del consiglio regionale per la provincia di Peso Rubino, questi sono gli eletti ma alcuni sono in forza e sapremo oggi comunque gli esiti. Mister Preferenze a Pesaro si conferma Andrea Biancani del Partito Democratico che ha ottenuto oltre 9 mila voti e dunque vola in consiglio regionale, questa volta però va all'opposizione. Mentre al centro-destra, rimaniamo sul centro-sinistra, dice Biancani ovviamente ringraziando tutti i 9 mila che lo hanno votato, non li deluderò mai e lavorerò ancora di più, lui è l'unico certo del centro-sinistra. Il secondo posto a disposizione è conteso tra Micaela Vitri, seconda arrivata nel PD e Gianluca Carrabs di Rinasci Marche, mentre è fuori Renato Claudio Minardi. Al centro-destra dovrebbero invece andare 5 seggi, il più votato è il leghista fanese Mirko Carloni, dice ho fatto una campagna elettorale alla vecchia maniera, casa per casa. Poi l'altro che ha ottenuto davvero un bel risultato è Luca, il secondo seggio è per, sempre della Lega, è per Luca Serfilippi che dice un grande successo personale, è stato il commento appunto di Luca, scrive Simona Spagnoli che li ha sentiti tutti ovviamente, li ha intervistati, è la prima volta che corro per la Regione in un mese e in un mese di campagna elettorale e ho triplicato i consensi rispetto alle comunali di ieri. Ora poi c'è Fratelli d'Italia, terzo partito della provincia, che mette in cascina un seggio sicuro, quello di Francesco Baldelli, vicepresidente nazionale Anci e già sindaco di Pergola, però è in corsa per il secondo che potrebbe essere assegnato, il secondo a Fratelli d'Italia, al pesarese Nicola Bagliocchi, anche lui oltre 2.000 preferenze solo a Pesaro. Per quanto riguarda invece Stefano Guzzi, capolista per Forza Italia che ha raccolto oltre 3.000 preferenze con la sua proposta di stampo riformista, c'è un'ipoteca, bisognerà attendere e bisognerà vedere più tardi e fare due conti in modo più preciso. Ora sulla giunta scrive e titola il Corriere Adriatico, Rebus giunta, la Lega prenota, 3 assessorati. Il Carroccio punta anche alla presidenza del Consiglio regionale. Castelli verso il bilancio, un tecnico invece alla sanità e qui c'è l'ipotesi Nadia Storti. Perché? Perché in effetti sono tutti uomini quelli che hanno preso i voti decisamente pesanti e quindi una giunta tutta uomini non sarebbe un bel segnale. E allora forse c'è l'ipotesi di mettere alla sanità un tecnico come Nadia Storti che durante l'epidemia ha dimostrato di avere doti e qualità indiscusse. Allora andiamo a vedere la pagina comunque del Corriere Adriatico. Gli eletti in Consiglio. Elena Leonardi, la fedelissima di Acquaroli, consigliere uscente di Fratelli d'Italia, con ogni probabilità siederà ancora nell'assise regionale per i prossimi 5 anni. Poi Antonio Mastro Vincenzo, il Presidente del Consiglio regionale uscente, dovrebbe tornare in aula visti i risultati parziali delle preferenze ottenuti fino a tardanotte. Francesco Baldelli, eletto nelle file di Fratelli d'Italia nella circoscrizione elettorale di Pesaro, è risultato nettamente il primo nella provincia più a nord delle Marche. Mauro Lucentini, neoconsigliere della Lega, eletto nella circoscrizione di Fermo, è stato tra i primi anni fa a credere in Salvini e a sposare il progetto Lega. Carlo Ciccioli, lo abbiamo visto ieri più volte vicino ad Acquaroli, è stato il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia prima di autosospendersi vista la candidatura. Punta ad un ruolo di primo piano, l'ipotesi per lui è di un assessorato al turismo. Stefano Guzzi, ex sindaco di Fano, concorre per l'unico posto che spetterebbe stando alle previsioni a Forza Italia nella futura giunta regionale. Poi Guido Castelli, ex sindaco di Ascoli, uomo forte del centrodestra e del sud delle Marche, salvo colpe di scena sarà in squadra con Acquaroli, per lui sono pronte le deleghe al bilancio. Poi c'è Mirko Carloni, ex assessore comunale di Fano, dal 2010 in Consiglio regionale, docente universitario e consulente di impresa. E' uno dei papabili assessori in quota Lega. Allora, questa è la pagina speciale del Corriere Adriatico. Adesso di nuovo sul resto del Carlino, la Lega spopola, siamo a Fano. Carloni fa il record, terremoto nel Partito Democratico, Minardi solo terzo. Nel partito di Salvini, ottimo exploit di Ser Filippi davanti ai cancellieri, Francesco Baldelli vicino all'elezione, a Guzzi in Forza. La Lega, dunque, Fano conquista la Regione con Mirko Carloni, oltre 6.000 preferenze. Nel suo partito è il più votato non solo in provincia, ma in tutto il territorio regionale. A spoglio ancora in corso, non ce l'ha fatta invece il candidato uscente del PD, Renato Claudio Minardi, preceduto dai candidati pesaresi Andrea Biancani e Micaela Vitri. Testa a testa fino all'ultimo, tra gli altri due leghisti, Luca Serfilippi e l'ex sindaco di Fermignano, Giorgio Cancellieri, ma poi spunta il più giovane e dunque passa Luca Serfilippi. Le porte della Regione si dovrebbero aprire anche per Francesco Baldelli, di Fratelli d'Italia. Festeggiamenti ovviamente nella sede di Carloni al Porto. Il primo a celebrare la vittoria del centrodestra, il candidato Acquaroli, è stato il parlamentare Luca Paolini, esibendosi in una performance musicale sul profilo Facebook preceduto dal commento. Il PD va a casa, we are the champions. Questo è il brano che ha suonato Luca Paolini della Lega. Nel centrodestra tante preferenze anche per l'ex sindaco di Fano, Francesco Baldelli, di Fratelli d'Italia, mentre Francesco Cavalieri, anche lui candidato di Fratelli d'Italia, non si è voluto perdere i festeggiamenti in Ancona con il nuovo presidente Acquaroli e la presidente Giorgia Meloni. La vittoria del centrodestra è stato il suo commento. È una grande soddisfazione, sono rientrato in politica dopo diverso tempo. La mia è stata una candidatura di servizio, dice ancora Francesco Cavalieri, che di professione è avvocato, partito in cui ho creduto fin dall'inizio e in questa campagna elettorale ho messo anima e cuore. Per quanto riguarda Stefano Guzzi, non so se scatterà o meno il seggio per Forza Italia e neppure dove. Nella provincia di Pesero Forza Italia ha però ottenuto un buon risultato e c'è un testa a testa con la provincia di Macerata. Sono comunque soddisfatto se con il mio impegno posso aver contribuito al risultato finale. Lo avevo detto che il centrosinistra avrebbe perso e perso male e anche se si fossero alleati con i 5 Stelle avrebbero perso. Comunque, dice il sindaco di Colli al Metauro Stefano Aguzzi. Salvini agli alleati manda dire il più votato resto io, Pax col Doge per blindarsi nel partito, Toscana e Superzaia, doppio colpo per il Capitano. Fallito l'assalto alle urne anticipate. Io non le chiedo, ha detto il leader del Carroccio. Ora finalmente invece si ricorderanno di noi. Gli esponenti del centrodestra preannunciano cambi di marcia anche sull'entroterra. Scaramucci del PD parla di sconfitta che brucia. Il leghista Cancellieri è convinto che Acquaroli abbia assolutamente bisogno di gente preparata ed esperta. Da sotto invece Vallefoglia il PD resta il primo partito ma la Meloni vola. Triplicato Fratelli d'Italia e Michela Vitri, che vedete nella fotografia, si impone come miss preferenze con oltre 730 voti. Cambiamo argomento. Sono le 7.23 per chi ci segue in diretta. Andiamo sulla pagina di Fanno del Corriere del Resto del Carlino. Si parla dei parcheggi blu, bloccheremo via le Gramsci, esercenti e professionisti contro l'imminente trasformazione di 89 posti da liberi a pagamento. Se il ticket costerà un euro l'ora, quanto dovrà spendere chi lavora in centro? Nuova piscina in costruzione, quasi finite le quattro vasche. Sul Corriere di Fanno la ditta si è concentrata sulla parte più importante sottoterra. Conclusione tra un anno. Dunque in via di completamento la parte sotterranea dell'impianto natatorio, in via di realizzazione da parte della Fondazione Cassa degli Spalmi di Fanno nei pressi dell'aeroporto. I lavori sospesi durante il lockdown hanno subito un'accelerazione nel momento in cui le misure restrittive adottate dal governo si sono allentate, tanto che si prevede che la nuova struttura sarà ultimata nell'autunno del 2021 con un solo mese di ritardo. Questa dunque è la situazione. Avremo otto corsie, ci saranno otto corsie da 50 metri. Tra poche settimane, ha precisato l'architetto Amadei, si potrà notare anche la parte in elevazione del fabbricato. Questo è composto da due volumi, uno ad un piano relativo alla parte sanitaria e l'altro più alto fino a raggiungere un'altezza di 7 metri, inglobata tutta la sala vasca e comprensiva di quella a otto corsie. Quindi insomma un bell'impianto. Una bomba d'acqua invece che ha creato smottamenti nell'entroterra. Una donna in auto a Pergola è rimasta intrappolata nella fiumana. 20 interventi dei pompieri. La foto invece qui a fianco è di Italo Nannini. In memoria di Nannini oggi una messa a Fano II alle 19 nella parrocchia della Santa Famiglia. Verrà ricordato Italo Nannini che ha lasciato un segno indelebile di sé nell'organizzazione non governativa che è l'Africa Chiama, che sta facendo davvero e fa tanto del bene nell'Africa, in Africa. Monte Copiolo finalmente fuori dal Covid. Il sindaco Pietro Rossi dice che i contagi si sono negativizzati dopo il focolaio di luglio che aveva portato oltre 30 positivi. Si sono salvati praticamente tutti quanti. Non sappiamo se sia di peso da una cena, ma certo ha messo in ginocchio il turismo della città, appunto del paese di Monte Copiolo. Corse studenti. Adria Bus va più lenta. Universitari arrivano tardi all'inizio delle lezioni. Dopo la soppressione delle linee Spidi ci vuole più tempo per viaggiare. Antinfluenzale. La vaccinazione slitta. Scatterà a metà ottobre. Più tardi del previsto. Non protegge. Questo va ricordato perché c'è stata un po' di confusione. L'antinfluenzale non protegge dal Covid-19, ma aiuta a evitare confusione sui sintomi. Nel senso che chi è vaccinato con l'antinfluenzale e dovesse prendere l'influenza, chiaramente si sa subito, senza distinzione, che è Covid e non l'influenza. Perché la copertura per l'influenza ce l'ha grazie al vaccino. Insomma serve appunto per evitare confusione sui sintomi. Detto questo, io direi che possiamo fermarci qua. Ah no, c'è una notizia importante che riguarda i pesaresi. Sant'Erenzio, il patrono, non c'è la processione, ma l'essenza resta forte. Il messaggio dell'arcivesco Piero Coccia in vista della festa del patrono. E dunque la festa di Sant'Erenzio, patrono dell'arcidiocesi di Pesaro, avrà un sapore inedito. Non si svolgerà la tradizionale processione. Sarà più contenuta la presenza dei fedeli e più sobria la celebrazione. Ma l'essenza dell'annuncio evangelico resta. E con questo noi ci salutiamo. Grazie per aver seguito la nostra rassegna stampa. Ci vediamo stasera alle 20.30 con il telegiornale Occhio alla Notizia. Per tutte le altre informazioni, come sempre, c'è il nostro portale occhialanotizia.it. Buona giornata a tutti. Grazie a tutti.